Entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie calzature su misura benvenuti al meteo anticiclone in rinforzo si prospetta una giornata di tempo stabile ma vediamo insieme il dettaglio di giovedì 25 gennaio sul veneto alta pressione è sinonimo di nebbie saranno anche piuttosto fit nel corso della mattinata cielo in genere poco nuvoloso ovunque sui monti maggiori rasserenamenti temperature stazionari e tutto sommato miti minime tra lo 0 e 3 gradi massime tra 5 e 9 gradi all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso sarà possibile la formazione di nebbie tra notte e mattino a seguire nuvolosità variabile ma con ampie schiarite come ci mostra la grafica temperature minime tra 1 e 7 gradi massime sui 9 11 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove sarà soleggiato contemporanei annuvolamenti specie al mattino temperature minime tra 3 e 4 gradi massime sui 13 15 all'incirca dal meteo di antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci busti tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria l'olato a treviso e montebelluna l'olato soluzioni per star bene